Se sai ballare, cantare, suonare, recitare, raccontare barzellette e vuoi metterti in gioco, non esitare a riscriverti. Il Cocos Club by la Fenice organizza la prima edizione della corrida di lettanti allo sbaraglio. L'iscrizione è gratuita. Ci aspettiamo martedì 7 agosto con inizio alle ore 21 e 30. Per prenotazioni tavoli contattaci ai seguenti numeri 388 8612 849. e 345 9305 403. Ti aspettiamo per condividere insieme l'appuntamento più divertente dell'estate. Cocos Club by la Fenice, località Porto Pirrone, via Malvarose, Marina di Leforano, Taranto. Grazie a tutti.